La riapertura delle scuole nonostante l'adozione delle misure anti-covid come era prevedibile ha visto l'insorgere di casi di coronavirus anche tra gli studenti. Numeri contenuti in provincia di Sondrio con una decina di ragazzi e bambini risultati positivi al tampone. Dopo i primi casi registrati a settembre in provincia con alunni contagiati e i compagni messi in quarantena alla elementare di Chiuro, all'Alberti di Bormio, alla primaria di primo grado di Valfurva, situazioni di emergenza già rientrate con il ritorno sui banchi e la presa regolare delle lezioni. In questo momento si registrano alcune situazioni di criticità con persone risultate positive al tampone in una classe del Pinchetti di Tirano, in una dell'Enaip di Morbegno, in una sezione dell'elementare di via Cesare Battisti e un'altra della primaria di via Paini, queste ultime a Sondrio. Studenti in quarantena alla scuola media di Livigno al PFP del capoluogo, due le classi in quarantena a causa di altrettante positività al covid accertate all'istituto superiore Alberti di Bormio, in una sezione dell'alberghiero e di ragioneria, come accaduto anche in due classi del socio sanitario del Rome Gialli di Morbegno. Stiamo lavorando in stretta sinergia con i referenti covid delle scuole per contenere la diffusione del virus, tracciando tempestivamente i contatti dei ragazzi risultati positivi e procedendo immediatamente all'isolamento, spiega il direttore generale di ATS della Montagna, Lorella Cecconami. Come sta avvenendo in tutto il territorio nazionale si registrano alcune positività anche nelle nostre scuole, ma i numeri contenuti confermano che per il momento l'azione di contrasto è efficace. Per proseguire in questa direzione, evitando che aumentino nuovi casi, servono la collaborazione e l'impegno di tutti, prosegue Cecconami, che raccomanda ai genitori di non mandare a scuola gli studenti con sintomi riconducibili al covid-19, contattando il pediatra o il medico di base. Per evitare di essere contagiati, ribadisce il GDATS, è fondamentale anche per gli studenti indossare la mascherina, sanificare le mani e rispettare il distanziamento sociale.